Con i play-off ancora da giocare che stabiliranno chi sarà promosso in Serie B, prende forma il girone C dell'anno prossimo in Lega Pro, il girone che sarà dell'Avellino e che affronterà piazze calde, alcune anche inedite, con le promozioni dalla Serie D di quest'anno. Sicuramente una tra Palermo e Catanzaro potrebbe a questo punto disputare il torneo cadetto, anche se Padova e Ferral Pisalò sono compagini difficilissime da affrontare. Al di là dei bianco-verdi, il girone C l'anno prossimo vedrà le neopromosse Cerignola, Giuliano e Gelbison, una pugliese e due campane che vanno ad arricchire la casella a piazze calde, con trasferte anche impegnative dal punto di vista ambientale. Squadre che probabilmente con le unghie e con i denti lotteranno per ottenere la salvezza o qualcosina di più. Ci sarà anche la retrocessa Crotone, altra compagine molto insidiosa per i piani alti di classifica, che non sarà accompagnata dal Cosenza, salvo nei play-out di ieri dopo aver battuto il Vicenza. E allora presumibilmente ci saranno Monopoli, Monterosi, Fidelisandria, Taranto, Foggia, Turris, Virtus Francavilla, Juve Stabia, Latina, una tra Catanzaro e Palermo o entrambe Picerno, Potenza, Messina e Campobasso. Si arriverebbe così a quota 20, ma se dovesse essere promossa una coinvolta nei play-off, ecco che potrebbe scendere dal girone B, una tra Teramo e Viterbese, come nella passata stagione.